Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Allora, allora, non vi stavate dimenticando di me? Pensavo che avessi chiuso il canale? Intanto vi ringrazio per i miei 500 iscritti che ho raggiunto, sono davvero molto felice. Bene, ringrazio a tutti per i miei auguri che avete fatto e continuerò a far crescere il canale, va. Spero di arrivare almeno a mille, ma ancora è presto, va. Detto questo, partiamo subito con i recuperi della 26esima giornata di Serie A. Si giocheranno tutte e sei le partite a porte chiuse, quelle al nord, che si giocheranno in casa. Allora, Parma Spal, in Emilia Romagna. Milan Genoa e Lombardia hanno chiuso tutte le province, Lombardia ha chiuso in tutte le città, tutte le undici le province. Sampedoria Verona, pure a porte chiuse. Udinese Fiorentina, anche questa. Juventus Inter, anche a porte chiuse, che sono due squadre al nord. E Sassuolo Brescia, anche a porte chiuse. Allora, iniziamo da Parma Spal. Allora, quelli che si giocano a porte chiuse, mi viene difficile da prenderle le partite, però. Io me li sentivo semplici quando c'era il pubblico, però. Allora, su Parma Spal le mettete uno più over uno e mezzo. Per me il Parma vincerà due a zero. Milan Genoa. Allora, Milan Genoa per me sarà una dura partita questa, ma sento che il Milan possa portare a casa questa partita. Milan Genoa, uno più over uno e mezzo. Che o vincerà due a uno. Per me un gol lo prenderà il Milan. Due a uno per il Milan, dico. Sampedoria Verona. Questa è una partita che vale tripla. Secondo me o doppia o tripla. Per me è doppia. Io ho messo una doppia. Sampedoria Verona, X2. Andiamo avanti. Udinese Fiorentina. Anche questa è difficile da prenderla. Allora, mi sento di più una doppia. Che per me Massimo può finire in un pareggio. Udinese Fiorentino, uno X. Juventus Inter. Per me sarà il derby più triste della storia che vorrò vedere, ma da quando... Se c'era il pubblico si vinceva tranquillamente, ma difficile la vedo, ma un gol lo prenderà di sicuro la Juventus. Io ho messo uno più gol. Per me la Juventus si vincerà due a uno. Sassuolo-Brescia. Allora, su Sassuolo-Brescia mi sento che ci saranno tre gol a partita a lunedì. Sassuolo-Brescia. Io penso che il Sassuolo vincerà sta partita per ben 3 a 0. Messo uno più over due e mezzo. Lo faccio breve il video. Stop! Questi sono i risultati, ve lo faccio vedere, per quanto riguarda la 26esima giornata di Serie A, le partite di recupero. Ricapitolando. Parma-Spal, uno più over uno e mezzo. Milan-Genoa, uno più over uno e mezzo. Sampdoria-Verona, X2. Udinese-Fiorentina, uno X. Juventus-Inter, uno più gol. Sassuolo-Brescia, uno più over due e mezzo. Vabbè raga. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito che lasciate un mi piace, di commentare qua sotto. Condividete anche il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi ancora al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ora e ancora vi ringrazio a tutti per i miei 500 iscritti. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. E forza Juve! Ciao belli!